Buonasera a tutti, ben ritrovati, vi stavo aspettando, questa è la centesima puntata della nuova edizione di Angoli, informazioni di servizio, così è bello sapere che per cento serate ci avete tenuto compagnia, lo facciamo anche questa sera insieme a voi, come ogni volta fino all'orario dell'informazione, abbiamo due ospiti da incontrare, più tardi ritorneremo a parlare dell'azienda Franchi Laser, li stiamo incontrando di settimana in settimana ed è un piacere ritornare sull'argomento, però abbiamo anche voluto ritrovare una amica della nostra trasmissione, insomma quando noi parliamo di gioielli ci affidiamo a lei, ve la presento fra un attimo perché prima di tutto devo ricordare come sempre che c'è il nostro indirizzo email, non me ne devo dimenticare perché c'è angoli-espansionetv.it, ci tengo a ricordarvelo ogni sera nel caso in cui voleste maggiori informazioni riguardo a quello che vi raccontiamo in studio. È una serata un po' speciale, centesima puntata come dicevo, allora è un piacere ritrovare una scrittrice, un'esperta di gioielli antichi, amica di Espansione TV, ben ritrovata Maddalena Lonati, ciao Maddalena, sono veramente lieta che sei ritornata, anche a me fa molto piacere decisamente, e insomma i nostri telespettatori affezionati si ricordano di te, insomma, sono lieta anche perché appunto festeggiamo con te l'apertura della centesima puntata e lo facciamo con la tua ultima fatica letteraria, fatica letteraria per modo di dire perché in realtà tu scrivi sempre con estremo piacere su un argomento meraviglioso, stringo fra le mani, spero si veda bene, Memorie preziose. Dunque una nuova avventura Maddalena? Sì, una nuova avventura, la quarta per la precisione, i precedenti tre, quindi Decadent Doll, l'Apostolo Sciagurato in bianco e nero, erano libri di narrativa, mentre in questo caso mi sono confrontata con questa mia grande passione che appunto tu conosci, che è quella dei gioielli d'epoca, delle gemme preziose, interesse e passione che mi ha portata negli anni ad occuparmi anche proprio di rubriche specifiche su questo meraviglioso argomento. Ricordiamo a chi magari ti vede per la prima volta, insomma, quando nasce questa tua passione innanzitutto per i gioielli? Perché noi che ti seguiamo da anni, insomma, abbiamo presentato tutti i libri, lo sappiamo però, quando è nata questa passione? Guarda, in realtà mi accompagna veramente da sempre, sin da quando sono bambina sono rimediabilmente attratta dalla bellezza dei gioielli ed essendo l'arte una dei miei più grandi interessi, ho capito ben presto come queste siano proprio delle piccole grandi opere d'arte e quindi proprio per questo motivo ho iniziato a studiarli, a approfondire sempre di più l'argomento e mi sono focalizzata principalmente sul periodo che va dall'Art Nouveau sino agli anni 40, senza tralasciare chiaramente anche periodi precedenti per capire un po' dove proprio affondino le radici dell'interesse dell'umanità per i gioielli e per i monili, però diciamo che ho approfondito maggiormente questo periodo. È un periodo ricco di rimandi storici, culturali, artistici, assolutamente molto stimolante e grazie allo studio dei gioielli secondo me è possibile fare una sorta di viaggio antropologico proprio per andare a capire tutto quello che riguarda la società, i cambiamenti storici di costume, il ruolo della donna, le varie correnti artistiche, letterarie. Quindi vedo un po' il gioiello come una sorta di bussola strada nell'amare delle informazioni, diventa un po' un punto di riferimento inusuale secondo me. Assolutamente inusuale però noi vogliamo consigliare i tuoi libri perché si è persi i primi tre che come ricordavi fanno parte del genere narrativo. In questo caso Memorie preziose, nuovo genere. Come è nata questa idea di cambiare un po', di virare quello che è lo stile? Guarda, ho voluto concentrarmi su questo genere proprio perché per me è una passione veramente grande, però sinora mi ero occupata principalmente di rubriche ma non avevo mai scritto un vero e proprio libro sull'argomento. Però non desidero considerarlo un saggio perché non voglio dare questa sensazione di una lettura per così dire complicata, un po' ostica. Invece è un qualcosa di appassionante spero per il lettore perché è proprio ricco di aneddoti, di curiosità. Come dicevi tu poi veramente ci sono intrecci che portano continuamente rimandi legati all'arte, alla società, ai personaggi e alla mitologia. Quindi anche questo è proprio uno stile che hai ricercato. Sì, è una trattazione molto varia. Probabilmente non è del tutto esaustiva perché chiaramente ogni argomento si potrebbe approfondire sempre di più. Però volevo rendere in ogni caso la lettura agevole per cui in alcuni casi mi sono dovuta un po' contenere e trattenere forse. Penso che per chi ha una passione peraltro così forte come la tua sia difficile un po' far una certa, vero, di quello di inserire. Hai ragione, hai ragione. Però volevo che fosse proprio accessibile a tutti, anche per chi è al primo approccio con questo tipo di materia. Quindi non è un libro rivolto agli esperti del settore o a chi abbia già un grande bagaglio di conoscenze in proposito. Vuole dare proprio le prime informazioni di base e poi approfondire alcuni aspetti. Quindi il lettore ideale del tuo ultimo libro Memorie preziose è sia la donna molto appassionata di gioielli ma qualsiasi tipo di interlocutore che è rivolta potenzialmente a tutti. Potenzialmente a tutti. Io penso che possa essere una lettura rivolta anche a un pubblico maschile proprio perché non è una trattazione semplicemente che riguarda i gioielli perché questo potrebbe sembrare un genere ovviamente più femminile assolutamente. Invece avendo così questa miscellanea di informazioni così varie che riguardano ad esempio anche la mitologia potrebbe incuriosire un po' varie fasce di lettori assolutamente. Voglio ricordare che quello che stiamo guardando è una cosa che va molto di moda in questo momento ed è giusto dirla perché poi chiunque andrà su internet a cercare informazioni lo potrà trovare. E' il tuo book trailer e quindi queste fotografie sono gioielli che poi sono fotografate all'interno del libro o servono insomma a rendere un po' l'idea del tema? Allora alcuni sono contenuti anche a livello proprio di foto nel libro, altri invece sono citati e spiegati ma non vengono rappresentati attraverso l'immagine. Facciamo un po' sognare chi ci sta guardando così diciamo anche che cosa devono aspettarsi all'interno del libro, che cosa hai inserito di particolare, un gioiello particolare che hai scritto tra le pagine? Guarda sono i più vari proprio perché il periodo storico è abbastanza vasto, ci sono alcune delle mie passioni all'interno di questo libro, ricordo ad esempio uno fra tutti è un monile che era stato posseduto da Elena Rubinstein che è stata una grandissima collezionista proprio di gioielli, un monile molto particolare che rappresentava una stella marina, andava a ricoprire completamente la superficie del dorso della mano, quindi è un qualcosa veramente di particolare forse che non può piacere a tutte, è un po' estremo, però diciamo che io sono attratta da gioielli molto insoliti, amo delle volumetrie imponenti che proprio si sappiano imporre in qualche modo, che catturino lo sguardo completamente, esatto, posso farti complimenti per i gioielli che hai ora insomma che stai indossando, sono bellissimi perché poi ogni volta che ci vediamo con Maddalena ovviamente sfoggio qualcosa, oggi cosa sono perle? Perle, sì, classicamente proprio delle perle che comunque io amo molto, le trovo veramente E ma dopo voglio indagare ancora un po' sui tuoi gusti personali, arriveremo anche ad un'altra chicca, quindi invitati tutti a continuare a seguirci. Ritornando al tuo libro, la cosa che mi colpisce tra le altre è il formato, perché sui libri che trattano questo tema, beh solitamente un formato quasi tascabile così è inusuale. Sì, è una scelta che hai voluto tu. È molto solito, è una scelta precisa, nel senso che nella maggior parte dei casi i libri che riguardano i gioielli sono dei volumi, veramente dei tomi giganteschi, pesanti, ricchi di fotografie, sono meravigliosi però innanzitutto molto costosi chiaramente e poi è abbastanza difficile da consultare perché si possono sfogliare solo fra le mura domestiche, non sono trasportabili. Sono diciamo da calotto, mi sembra così. Invece io desideravo rendere facile in tutti i modi l'approccio e quindi mi piace pensare che si possa portare comodamente ad esempio anche sui mezzi, rendere più piacevole proprio il percorso magari. Quindi da godersi anche in un viaggio sul bus, sul treno. Esatto, questo chiaramente ha abbassato drasticamente anche i costi, infatti in vendita a 12 euro quindi anche questo rende ancora più fruibile. E forse grazie alla combinazione di tutte queste caratteristiche ho avuto proprio la fortuna di rimanere per molte settimane al secondo posto in classifica delle vendite e questo è stato sicuramente gratificante. Molto gratificante, siamo lieti per te ma anche perché ricordiamo che è da poco comunque, da pochi mesi? Sì, 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 da pochi mesi. È un'uscita recente e spero che possa darmi ulteriori soddisfazioni, me lo auguro. Tutti quelli che vorranno magari avere la propria copia di Memorie Preziose, librerie tradizionali o online, giusto? Sì, sì, si può trovare nelle librerie. Normalmente se non dovesse essere a disposizione è sufficiente ordinarlo, arriva nel giro di pochissimi giorni oppure su tutti i siti di vendita online, è reperibile davvero ovunque. Per quanto riguarda il lavoro, in quanto tempo l'hai preparato il volume, quanto ti ha impegnato? Circa un anno. Quindi c'è stato un lungo lavoro di ricerca? Sì, sì, un lungo lavoro di ricerca e poi come giustamente sottolineavi tu, ho dovuto fare proprio una cernita. E vabbè, tutto quello che non hai inserito qui magari entrerà in un prossimo volume perché poi sappiamo che la tua produzione comunque si sussegue, sei sempre con un obiettivo ben preciso. Tu ogni tanto arrivi e c'è sempre il tuo nuovo libro. Per ora, Memorie Preziose, l'abbiamo promesso. Adesso glielo chiedo proprio dal tuo punto di vista, proprio come Maddalena Lonati, donna, amante dei gioielli. Insomma, c'è un periodo storico per quanto riguarda l'arte del gioiello? Che ti piace di più? Un po' mi avevi già risposto. O c'è un gioiello in particolare che vorresti avere? Nei tuoi sogni proibiti, via. Guarda, dovessi scegliere un unico gioiello, ti risponderei con un gioiello stranamente di produzione contemporanea, non di epoca. Si tratta del Bloody Mary, che è un pezzo unico, non è in produzione, fa parte della collezione privata della famiglia Damiani ed è un meraviglioso omaggio a Maria Tudor e nel 1986 ha vinto l'Oscar per la gioielleria, proprio grazie a questo. Sì, è veramente un'opera d'arte straordinaria. Chiedo allora alla regia, perché noi abbiamo una foto dove Maddalena indossa questo gioiello del desiderio. A breve arriva, raccontami intanto mentre la foto... Ho il privilegio di indossare questo spettacolare gioiello e come ti dicevo si tratta di una sorta di gorgera, proprio un omaggio a Maria Tudor e vediamo come ci siano queste volumetrie veramente imponenti, questo susseguirsi di onde sinuose e dialoga perfettamente fra la luce e l'ombra, proprio un impatto scenico assolutamente suggestivo. Dove l'hai indossato? Dove eri? Lì ero a Palazzo Damiani e c'è proprio questo alternarsi dell'oro giallo con l'oro brunito che va a ricordare la tessitura e poi questi 1121 diamanti che vanno adornarlo in questo sfaviglio straordinario di lucentezza che vanno a ricordare con l'alternarsi anche in questo caso di taglio brillante e taglio baguette proprio i punti della tessitura. Nella fotografia che abbiamo visto tu eri in uno stato di grazia, si vedeva che è stata un'emozione fortissima, quasi di un sogno. Sì, lo desideravo davvero da tanti anni e ho avuto la fortuna assolutamente di indossarlo. Va bene, abbiamo capito, questo è il sogno proibito di Maddalena Lunati per quanto riguarda l'oggetto, ce ne fosse uno, il gioiello da possedere. Io ricordo che per tutti quelli che ne vogliono sapere di più, che vogliono gustarsi una bellissima lettura, il formato abbiamo detto ci aiuta anche per portarlo sempre con noi, insomma memorie preziosi, Robin Edizioni, dunque abbiamo ricordato tutto. Io Maddalena ti ringrazio per essere stata con noi, mi auguro di ritrovarti presto. Sicuramente, con grande piacere. E in bocca al lupo per il libro. Crepi. Noi ci dobbiamo interrompere solo per un istante di pubblicità, ma lo sapete, Angoli ritorna subito dopo, io vi aspetto qui. Biosonic, vieni a provare gratuitamente l'apparecchio acustico più adatto a te. Biosonic, per sentire di nuovo tutti i suoni della tua vita. Holiday, la tv del turismo e del tempo libero nella città di Como, sul lago, nelle valli e sui monti lariani. Holiday, una tv multilingue ricevibile in gran parte del nord Italia per chi vuole scoprire le bellezze naturali e le attrattive di un territorio fra i più pittoreschi al mondo. Un affascinante viaggio tra i meravigliosi paesaggi lacustri, l'immenso patrimonio artistico architettonico, le stupende ville con i loro parchi, gli orti botanici, gli alberi secolari, le sagre, gli eventi della tradizione, le possibilità di soggiorno, i migliori ristoranti e i servizi ricreativi del territorio. Inizia il viaggio, sintonizzati su Holiday, canale 210. Corriere di Como, in tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. Ciao, sono Diego Batantuono. Queste scene sono mascherate perché le edono la dignità, la loro e la nostra. Ma se avete coraggio, questa è la verità. Nella discarica di Mbebus in Senegal, centinaia di bambini sopravvivono rovistando nell'immondizia. Non possiamo far finta di niente. Invia un sms o chiama la rete fissa il 45593 e sarai con fratelli dell'uomo a dare loro una scuola, un lavoro, una vita. 45593. Salviamo la dignità di questi bambini, salveremo la nostra. E dopo aver dato un buon consiglio di lettura nel nostro salotto di Angoli con la prima ospite che ci ha tenuto compagnia, ora si cambia argomento. Vi ho anticipato che saremmo ritornati a parlare dell'azienda Franchi Laser. È un piacere ritrovare un ospite che ci ha già tenuto compagnia nelle scorse settimane, ma è sempre un piacere ritrovare. Antenore Salardi, buonasera. Buonasera a tutti. Responsabile commerciale di Franchi Laser. Antenore, tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. E dobbiamo rientrare nel mondo Franchi Laser perché è un mondo che dobbiamo raccontare e soprattutto ripresentare a chi magari questa sera ci vede per la prima volta. Perché partiamo da questo, dai dati fondamentali. Innanzitutto una realtà che si trova dove sul territorio e che storia ha? Allora, la Franchi Laser nasce a Proserpio, fondata più di 30 anni fa dai fratelli Franchi Alberto e Silvio. È nata come una carpenteria metallica classica, ma subito dopo si è trasformata in qualcosa di speciale. Perché questo qualcosa di speciale? Perché i fratelli Franchi non si sono mai fermati davanti alle tecnologie che venivano proposte, che vengono proposte tutt'oggi. Quindi siamo una carpenteria speciale perché abbiamo all'interno della nostra carpenteria tanta tecnologia e quindi riusciamo a soddisfare enormemente le esigenze dei clienti. Guarda, dobbiamo veramente toccare tutto punto per punto perché il mondo Franchi Laser è dinamico, che accoglie sempre le sfide, come dicevi tu, per volontà dei titolari e effettivamente arriva a produrre degli oggetti che sono straordinari. Per qualsiasi ambito noi poi andiamo ad indagare. Partiamo da questo, innanzitutto la lavorazione di tanti tipi di materiali diversi. Su quali lavorate? Facciamo prima dire su che cosa non lavoriamo. No, è semplicissimo. Avendo appunto, avvalendoci di tantissime tecnologie, quindi adesso andiamo nello specifico, quindi il taglio laser piuttosto che il taglio a waterjet, che è un taglio ad acqua, riusciamo veramente a lavorare qualsiasi tipo di materiale. Faccio degli esempi banalissimi, che può essere il semplice metallo, che è quello che è predominante nella nostra lavorazione, ma addirittura il carbonio, l'alluminio, il rame, l'ottone, il plexiglass, qualsiasi tipo di materiale noi riusciamo a lavorarlo e a tagliarlo e a dargli forma. Ma anche i più impensabili, magari quelli più resistenti, tutto tagliato con una precisione assoluta, perché, come ricordavi, la tecnologia, i laser, veramente riescono a dare una precisione inarrivabile. Sì, una precisione inarrivabile, soprattutto si riesce a dare al cliente quella forma che in altre situazioni non si riuscirebbe ad ottenere. Faccio un esempio. Una cosa fondamentale è quella dove noi riusciamo a partire da zero. Cioè, noi, il cliente che arriva da noi non necessariamente deve avere un disegno o un file già preparato. Proprio di questo, per questo ci avvaliamo di un ufficio tecnico, da dove prendiamo per mano il cliente e lo portiamo fino ad ottenere il pezzo finale. Diciamo che il cliente arriva da voi, la persona arriva con un desiderio, la realizzazione di un'opera che lui ha in mente, grazie all'aiuto dei vostri professionisti, perché poi ci sono i designer, insomma, che aiutano a mettere, a dare forma alle idee delle persone, si arriva alla realizzazione finale, corretto? Assolutamente sì. Abbiamo clienti in tutti i settori del commercio, diciamo così. Abbiamo clienti che si occupano di costruzioni di mezzi meccanici come trattori, quindi il settore automobilistico e agricolo. clienti che si occupano del settore dell'arredamento, quindi del design. Spaziamo veramente ovunque. Quindi la vostra utenza ultima è potenzialmente illimitata, chiunque. Non abbiamo veramente confini. Può sembrare strano dirlo, no? Però non abbiamo confini. Ma questo non solo grazie alla tecnologia che abbiamo in azienda, ma la tecnologia senza l'apporto umano non sarebbe nulla. Questo dobbiamo dire grazie a tutti i collaboratori che lavorano in Franchi Laser, perché sono veramente il 50% delle macchine che altrimenti non potrebbero fare quello che noi realizziamo. No, quello assolutamente l'abbiamo fatto anche altre volte, quando ci era venuto a trovare Silvio, peraltro, Silvio Franchi, e anche lui ha sempre detto che la squadra si muove bene, l'azienda si muove bene perché c'è una forte squadra che va verso un obiettivo preciso come una forza compatta. Stiamo vedendo, tra l'altro, anche alcuni dei lavoratori in Franchi Laser. C'è un sito internet da segnalare per tutte le persone che vogliono avere le informazioni. Io lo ricordo è www.franchilaser.it e questa è l'home page. Arriviamo ad un altro punto di forza, perché dopo sbirceremo anche qualcosa che ci hai portato in studio. Però mi confermi che una vostra caratteristica è anche quella di riuscire a soddisfare la singola richiesta. Cioè non c'è un limite minimo di produzione da dover fare. Insomma, se io vengo con il mio oggetto che voglio vedere realizzato, lo realizzate, anche se è uno solo. Esattamente così. Allora, cosa succede? In tempi non sospetti è sempre stata la nostra prerogativa, cioè accontentare il cliente che veniva da noi, aveva bisogno di creare un prototipo, perché prima di andare in produzione con certi numeri si crea sempre un prototipo o dei pezzi minimi. In tempi non sospetti perché qualche anno fa molte aziende concorrenti, quando ci si presentava fammi un pezzo, arricciavano il naso perché tutti puntavano alla produzione di tanti pezzi. Questo invece noi l'abbiamo sempre scartato, nel senso che andava bene così, no? E oggi siamo premiati, perché oggi le grandi produzioni non esistono più, come purtroppo sappiamo. Certo. E quindi il singolo pezzo o le piccole e medie produzioni oggi ci vengono premiate da quei clienti che ci riconoscono che allora non li abbiamo chiuso la porta. Ebbè, un punto di forza non da tutti e dunque era corretto sottolinearlo perché insomma non è veramente un servizio che offrono tutte le aziende. Ho detto e ho anticipato, adesso lo vediamo finalmente, tu come sempre ci hai portato qualcosina in studio da guardare per vedere come tutto quello che ci siamo detti a parole puoi trovare riscontro nella realtà. Quando dicevamo Franchi Laser lavora su tutti i materiali con una precisione infinita, ci hai portato un oggetto composto da tanti materiali diversi. Sì, allora quello che vediamo sembra quasi una montagna, no? È composto da tanti materiali, è un esempio per far capire ai nostri clienti che siamo in grado di lavorare qualsiasi tipo di materiale con qualsiasi tipo di forma. Qui spaziamo dall'alluminio al rame, all'acciaio, al marmo. Quello alto è il marmo. È un marmo che viene tagliato con la waterge, che è una macchina molto particolare che è come se fosse un laser ad acqua, se lo vogliamo intendere così. Da un ugello esce uno spillo d'acqua a 3600 bar e addizionato con polvere abrasiva riusciamo a tagliare perfettamente come un laser. Peraltro grande abilità perché appunto in questa sorta di piccola scultura dimostrativa, tra virgolette, abbiamo visto anche tutti i contorni. Insomma, non è che avete tirato delle linee, no? Avete effettivamente lavorato, guarda... Stai dicendo bene, Roberta, esatto. Un puzzle avete fatto. E quello che volevamo proprio far notare è che non tiriamo solo delle linee erette, ma abbiamo la possibilità di creare anche degli spigoli vivi, di creare dei tondi, quindi la possibilità di creare anche qualsiasi tipo di forma. E non vi spaventa niente, qui veramente vi misurate con tutti i materiali più difficili, con tutte le forme più difficili e poi il risultato sempre impeccabile perché la tecnologia, l'abbiamo detto, è veramente a livelli tali da non averne una sbavatura. Insomma, l'abbiamo costruito insieme durante la pubblicità e il puzzle combaccia perfettamente. Un altro oggetto che ci hai portato in metallo, una struttura un pochino più tecnica questa. Sì, quello che vediamo noi lo chiamiamo ragno, nel senso che è un componente di un mezzo agricolo. Sì. Qui vediamo anche, per i più esperti soprattutto del settore, si possono rendere conto che esiste innanzitutto il taglio a laser, enormi quantità di pieghe, quindi un pezzo molto complicato e poi anche la saldatura. Quindi chi ha occhio su questo pezzo può rendersi conto che è veramente un pezzo bello dal punto di vista meccanico. Il nostro angelo custode dello studio del giorno, Mauro Fontana, ce lo sta facendo apprezzare nel migliore dei modi, quindi direi che io ti ho dovuto chiedere spiegazioni perché purtroppo non me ne intendevo e quindi sei stato molto chiaro. Però chi di competenza riuscirà a coglierne la qualità. Un'ultima cosa, un oggetto piccolissimo perché anche qui la precisione veramente con le dimensioni più piccine. Guardate attentamente, sulla destra una moneta da un euro, sulla sinistra? È un reticolato, è un metallo di acciaio inox che è stato tagliato a laser e questo fa capire nel suo dettaglio quanta precisione e quanto possiamo scendere nel dettaglio sugli articoli. Questo potenzialmente potrebbe essere un orecchino. Pensa che parlavamo con l'ospite che è stata con noi prima proprio di gioielli, quindi vedi che abbiamo trovato un collegamento anche in questo senso. È grande come una moneta però il disegno è perfetto, riconoscibilissimo. Sì, questo proprio per far capire che riusciamo a fare le grandi strutture complesse ma anche le piccole cose complesse. Eh certo. Abbiamo detto fiore all'occhiello, insomma punto di forza sicuramente il fatto che non state a guardare i quantitativi della produzione ma accontentate anche la persona con una singola richiesta. E sempre in questo discorso dobbiamo sottolineare che avete un occhio speciale anche alla personalizzazione proprio dei vostri lavori, vero? Perché questa è un'altra cosa che va sottolineata comunque. Assolutamente sì. Adesso magari nella personalizzazione entriamo in un settore che esula un attimino dalla carpenteria metallica ma comunque all'interno della nostra azienda abbiamo due laser incisori che ci permettono di andare a personalizzare qualsiasi tipo di oggetto. Faccio un esempio, Roberta ha il camino a casa, gli si è rotta la griglia, non sa dove andarsela a fare nuova, viene da noi, noi gli facciamo la griglia in acciaio inox e gli scriviamo su anche Roberta e quello che vuole lei. Roberta non ha un camino ed è dispiacitissima perché l'idea peraltro mi piaceva molto ma sei stato tanto chiaro. No scusami se ho divagato un po', insomma abbiamo parlato di carpenteria e abbiamo capito bene però una piccola parola anche per dire che il mondo franchi laser, oggi abbiamo parlato di carpenteria però si occupa anche di tutto quello che è oggettistica. Ricordiamolo che poi alle signore anche fa piacere ricordare questo. Assolutamente, franchi laser come dici te non è solo carpenteria ma ha anche design, quindi ci siamo inventati in questi anni una situazione dove andiamo a creare degli oggetti, o meglio dire faccio un passo indietro, non creiamo degli oggetti, che andiamo a rivisitare degli oggetti che già esistono come facevamo già di esempio qualche settimana fa, quindi non so faccio un esempio il porta scottes più sotto che il porta ombrelli, il porta tovaglioli che tutti abbiamo in una casa, noi li andiamo a rivisitare, gli diamo un po' di eleganza e di morbidezza e li facciamo diventare design senza togliere la loro utilità. Allora Antenore, bene abbiamo detto tutto, 360 gradi il nostro mondo, approfondimento sulla carpenteria, sul nostro, il vostro, poi io mi sento sempre parte, dopo divento sempre parte della questione, ricordo il sito internet www.franchilaser.it per saperne di più. Antenore devo salutarti perché come sempre con te il tempo corre, siamo arrivati al termine della puntata, grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a te Antenore e grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questa sera, è arrivato il momento dell'informazione, dobbiamo lasciare lo spazio al telegiornale di Espansione TV, ricordo il nostro sito internet www.espansionetv.it, andate a rivedere le puntate di Angoli che vi siete persi, grazie, ci rivediamo alle 19 di domani, arrivederci.